Sì, assolutamente sì, un modo di operare che cambia, l'incrocio domanda offerta, l'ottimo lavoro che viene svolto dai centri di benimpiego sul territorio, in particolare un modo oggi risolverato, appunto, dare la possibilità ai ragazzi delle scuole di avviarsi al lavoro attraverso un confronto con le aziende del territorio che hanno risposto molto bene. Quindi siamo soddisfatti di questo lavoro, stiamo investendo molto sui centri di benimpiego, sui nostri operatori, sui nostri funzionari e dirigenti che svolgono una funzione molto importante nel momento in cui abbiamo tantissime risorse da utilizzare e utilizzare bene. Proprio qui in questa sede che verrà completamente rinnovata, verrà demolito questo immobile ricostruito grazie alla convenzione fatta appunto tra l'amministrazione regionale e l'amministrazione comunale. I lavori partiranno dopo l'estate e sarà la possibilità appunto di avere una sede adeguata appunto a quelle che sono le esigenze moderne, insomma, anche del lavoro. Poi come Dipartimento Lavoro stiamo investendo molto sulla ricerca di giovani che vogliono avviarsi al lavoro, di avere la possibilità di restare a lavorare in Calabria. Cioè in questo momento abbiamo pubblicato l'avviso carie che riguarda il turismo, che dà la possibilità alle aziende di avere un incentivo non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato. Lavoriamo molto sulla formazione attraverso il programma Goll perché siamo convinti che solo formando i nostri giovani e i tanti disoccupati che abbiamo purtroppo in Calabria cerchiamo di ridurre quell'emorragia che c'è ogni anno che sposta 10.000 calabresi verso altre regioni d'Italia. Oggi la Calabria grazie all'impegno della regione del Presidente Occhiuto sta cambiando, stiamo iniziando a vedere risultati positivi e vogliamo appunto costruire una Calabria nuova, diversa e bella. E di qualche giorno anche la dichiarazione del Presidente Mattarella che riconosce questo incremento dell'occupazione. Assolutamente sì, c'è un incremento dell'occupazione, però dobbiamo molto lavorare. Io profitto e rivolgo un appello alle aziende calabrese a una maggiore sensibilità. Dobbiamo contrastare quel fenomeno brutto, triste e negativo che è il lavoro sommerso, il lavoro nero, il lavoro irregolare che non dà dignità alle persone, non dà dignità al lavoro e purtroppo oggi è il fenomeno più diffuso. Stiamo cercando di far capire alle aziende che devono assumere in modo regolare, lo facciamo attraverso gli incentivi, lo facciamo attraverso la formazione. Noi siamo vicini alle aziende ma le aziende devono cercare di rispondere in modo positivo. Solo attraverso il lavoro vero i giovani e le persone arrivano a vivere in Calabria. E soprattutto anche sulla sicurezza del lavoro, che purtroppo anche lì i dati sono... Anche sulla sicurezza del lavoro c'è tanta preoccupazione, ma anche lì stiamo investendo molto. Abbiamo fatto un incontro nei mesi scorsi con l'INE e i vari sindacati, dove cerchiamo appunto di investire risorse sulla sicurezza, sulla formazione anche che è fondamentale. Ma anche lì c'è grande responsabilità da parte di tutti e soprattutto dalle aziende. Sì, è una giornata importante perché si coinvolge le scuole di Soverato e del comprensorio, quindi un centro per l'impiego che non tocca solo il comune di Soverato, ma i 27 comuni che ruotano attorno al comune di Soverato. Importante perché il messaggio che si vuole mandare oggi attraverso anche i colloqui con le aziende è quello di rimanere in Calabria proprio per lavorare e per far sì che la Calabria diventi anche un posto dove ci possono essere delle opportunità. Su questa sede stiamo lavorando grazie alla Regione Calabria e grazie anche all'interlocuzione continua che c'è con l'assessore Calabrese, quello di rinnovare i locali del centro per l'impiego. A settembre questa struttura sarà demolita e sarà costruita una nuova struttura che sarà adeguata sia sismicamente ma anche a livello interno che possa avere spazi più consoni proprio perché questo diventa poi un luogo non solo di front office ma anche un luogo dove si può aprire un dialogo continuo con la nostra comunità. Allora come centri per l'impiego stiamo seguendo tutta l'azione regionale cerchiamo e puntiamo a diventare punto di riferimento per tutti quanti i cittadini sicuramente rivalutare questa sede, dare dignità a questa sede rappresenterà un altro bel punto di partenza. Il nostro obiettivo fondamentale è sempre stato quello di accogliere gli utenti nel miglior modo possibile utilizzando ovviamente sempre un approccio molto umano e molto empatico perché comunque abbiamo a che fare con un'utenza che è portatrice di numerosi e di svariati bisogni per cui accoglierla anche in un posto che sia più confortevole che garantisca anche una migliore privacy sarà sicuramente un punto di forza. E poi riguardo i colloqui che si stanno svolgendo questa mattina come sono strutturati e quanti ragazzi stanno partecipando? Allora i colloqui che si stanno svolgendo sono la parte finale di questo progetto che stiamo portando avanti con le scuole ormai da parecchi mesi insieme ad altri partner che sono Sviluppo Lavoro Italia tutte quante le scuole, il comune di Soverato nonché i consulenti del lavoro e la neuropsichiatria infantile abbiamo fatto dei laboratori di orientamento che hanno toccato diverse tematiche per quanto riguarda il centro per l'impiego ci siamo concentrati soprattutto sulle classi in uscita in modo tale proprio appunto da creare delle vere e proprie occasioni di lavoro dobbiamo dire che le aziende del territorio hanno risposto benissimo c'erano infatti in comune ben 20 aziende che si sono candidate con oltre 90 profili professionali ricercati e ci sono state altrettante candidature ben 90 ragazzi sono presenti in comune che stanno sostenendo i colloqui ci sono dei dati sul territorio che possiamo dare? nel corso del progetto sono praticamente emersi alcuni dati importanti soprattutto sulla conoscenza dei centri per l'impiego da parte dei ragazzi ci siamo resi conto che la maggior parte disconosce che cosa sono questi uffici e quali sono i servizi che essi offrono quindi il nostro obiettivo è stato proprio quello di far conoscere i centri per l'impiego innanzitutto i servizi quasi nessuno dei ragazzi, più dell'80% dei ragazzi non avevano nemmeno effettuato la prima ascrizione al centro per l'impiego e nel corso dei laboratori 140 di questi sono stati già presi in carico ma l'attività spero che continuerà anche nei prossimi mesi in modo da avvicinarli sempre di più nel corso dei laboratori inoltre è stata somministrata un'intervista del tutto anonima a questi ragazzi dove sono state fatte tutta una serie di domande oltre che sulla conoscenza dei centri per l'impiego anche sulla parte delle esperienze lavorative che avevano avuto il questionario è stato elaborato insieme proprio con un imprenditore locale che è molto attivo appunto sul territorio che è Giannisgrò e da lì sono emersi dei dati appunto significativi perché molti avevano avuto una prima esperienza di lavoro però nel momento in cui noi abbiamo fatto la domanda soprattutto sulla contrattualistica che gli era stata applicata quasi il 60% di questi aveva dichiarato di aver lavorato senza un regolare contratto di lavoro sono dei dati molto interessanti che andrebbero esaminati attentamente che potrebbero offrire una guida o una programmazione futura Allora, nelle scuole noi stiamo svolgendo già da più di un anno anche a livello nazionale orientamento in tutte le scuole sia nelle scuole superiori sia nelle università Noi quest'anno solo nel 2023 abbiamo orientato più di 300 ragazzi nella provincia di Catanzaro quindi un ottimo risultato e stiamo portando avanti i nostri obiettivi che sono quelli dell'etica, della legalità e soprattutto quelli della sicurezza sui luoghi di lavoro che oggi come ben sappiamo è un argomento che ci sta strettamente al cuore per tutto quello che sta succedendo solo ieri sappiamo che ci sono state tre infortuni mortali questo purtroppo non va bene dobbiamo sensibilizzare sempre di più i ragazzi perché sono loro il futuro oggi sono studenti, domani saranno i nostri lavoratori le nostre imprese quindi sensibilizzarli in questo momento questo significa far sì che un domani si possa ridurre questo dato che purtroppo morire sul lavoro penso sia la cosa più brutta che possa esistere E poi anche la possibilità di promuovere quelli che sono gli strumenti anche i consulenti del lavoro come i centri per l'impiego Noi abbiamo fatto orientamento anche sul lato di che cosa fa il consulente del lavoro e quale opportunità dà allo studente stesso anche perché noi ci teniamo che lo studente possa rimanere in Calabria per evitare che tutte queste fughe verso il nord o addirittura verso l'estero quindi rimanere in Calabria perché la nostra Calabria è molto bella e quindi dobbiamo cercare di tutto possibile per farli restare qua Come fare per mettersi in contatto quindi con i consulenti e il lavoro? Basta mandare una mail al Consiglio Provinciale oppure diamo tutti i riferimenti per poter continuare questa collaborazione che è stata perfetta